I gestori della discarica di Lentini tornano a bussare alle casse del lato ambiente CL1 e delle amministrazioni di Caltanissetta, Serra di Falco e San Cataldo per avere saldati i debiti relativi al conferimento dei rifiuti per il primo trimestre e per il secondo trimestre del 2013. Dopo l'intervento dei giorni scorsi dell'assessore regionale all'energie Niccolò Marino, chiamato in causa dal sindaco Michele Campisi per scongiurare la chiusura dei cancelli, i gestori della discarica hanno deciso di dare un'ulteriore proroga sino a mercoledì 31 luglio. Se i comuni non prevederanno a saldare la somma dovuta potrebbe dunque scattare l'ennesima emergenza rifiuti. È arrivato un fax questa mattina al lato e sicuramente la discarica vuole il pagamento che ammonta a ben 350 mila euro se ci fermiamo con i conferimenti fino a marzo per il comune Caltanissetta, 31 per Serra di Falco e 118 mila euro per San Cataldo. Aggiornando gli importi introdotti fino ad oggi, anzi fino a maggio, le cifre sono ben superiori perché arriviamo a circa 950 mila euro a carico del comune Caltanissetta e aumentano pure le cifre per quando arriviamo intorno a un milione e mezzo complessivamente per tutti i tre comuni che converiscono. Quindi purtroppo la discarica Lentini è molto cara e ogni mese incide parecchio sul costo per quanto riguarda il converimento a discarica. Noi abbiamo mandato tutti i conteggi, tutti gli atti di liquidazione con la regolarità della spesa ai comuni. Quindi i comuni devono adottare gli atti deliberativi e dopodiché predisporre il pagamento. Tutti i tre comuni, sia Caltanissetta, San Cataldo e Serra di Falco, sono dei comuni che hanno adottato delle ordinanze ex articolo 191 proprio per poter superare questa fase emergenziale. Quindi dovranno provvedere loro al pagamento diretto.